Ciao ragazzi, siamo Liliana e Carlos e siamo lieti di portarvi con noi in una delle spiagge più belle del Portogallo, Magoito. Oggi è un giorno molto speciale perché è il venerdì santo di Pasqua e i portoghesi hanno una tradizione unica, la raccolta delle cozze. Durante questo giorno, le famiglie locali si riuniscono sulla spiaggia per raccogliere le cozze fresche dalle rocce e dalle pozze lungo la costa. Ciao ragazzi e benvenuti. Magoito? Wow, guardate come si vede il mare. Oggi è venerdì santo. È una tradizione molto particolare qui in Portogallo. È tutto pieno, sono le 10 di mattina e si chiama Apagna Michelão. Come si chiama? È Michelão. È incredibile ragazzi. Sì, sono un sacco di persone. Sì, sono un sacco di persone. Sì, sono un sacco di persone. Esploreremo insieme i dettagli di questa tradizione portoghese unica, vedremo come le cozze vengono raccolte. Non vediamo l'ora di condividere con voi questa esperienza unica e autentica. Quindi, mettetevi comodi e seguitemi in questa avventura e culturale sulla bellissima spiaggia di Magoito. La spiaggia di Magoito si trova nella regione di Sintra. In Portogallo, ed è una delle spiagge più selvagge e naturali della zona. Situata in una profonda vallata e incastonata tra grandiose scogliere, da cui è possibile godere di un bellissimo panorama. La spiaggia di Magoito è molto popolare tra i surfisti, in quanto le onde dell'Oceano Atlantico sono abbastanza grandi e stabili per praticare questo sport. Nella spiaggia di Magoito si trovano delle interessanti formazioni rocciose, tra cui un grande arco naturale che si erge tra le onde dell'Oceano. Ora, questa ora non deve apalhar molto più. Quante ore? Quante ore? Quante ore? Ci abbiamo una ora e meia. Una ora, una ora e meia. Buon appetito e buon Passo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Guardate a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.